Con questo modulo didattico entriamo nel vivo di un argomento classico della intelligenza artificiale, cioè la ricerca nello spazio degli stati. In questo modulo in particolare non prenderemo in considerazione la cosiddetta conoscenza euristica che sarà invece oggetto del prossimo modulo. Questa unità didattica in particolare di questo modulo sarà dedicata ai concetti introduttivi, quindi sarà molto semplice. Nelle successive vedremo invece gli algoritmi nello specifico che vengono utilizzati per fare ricerca nello spazio degli stati senza conoscenza euristica. Cosa significa ricerca nello spazio degli stati? Beh qui abbiamo un esempio di uno spazio degli stati, uno spazio degli stati non altro che un grafo con i nodi che rappresentano un certo stato del mondo che è oggetto dei processi inferenziali del problem solving. Ogni nodo rappresenta uno stato del mondo e l'arco che c'è fra due nodi rappresenta una transizione nello stato del mondo. Quindi si tratta di un modello di rappresentazione di problemi estremamente ampio che si applica a una quantità smisurata di problemi. Qui nell'esempio che abbiamo davanti l'esempio è tratto da un esempio di pianificazione, pianificare una serie di azioni per modificare lo stato relativo di tre blocchi in un modo semplificato da uno stato di partenza a uno stato obiettivo, come vediamo. E quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che lo stato del mondo è sostanzialmente rappresentato dalla posizione relativa di un certo numero di oggetti, posizione relativa fra di loro e quindi noi potremmo dire che questa è una rappresentazione dello stato del mondo di media complessità. Un esempio simile ma leggermente più complesso, anche qui gli stati del mondo sono, questo è il classico esempio del gioco del n-puzzle, classico della storia dell'intelligenza artificiale, è stato sviluppato per, è stato utilizzato per sviluppare molti esempi e concepire e studiare molti algoritmi. Dunque qui abbiamo appunto anche qui lo stato del mondo è rappresentato da uno stato delle caselle di questo gioco e quindi anche qui abbiamo sostanzialmente una posizione relativa di oggetti all'interno del mondo. E anche ancora qui le mosse rappresentano delle possibili transizioni fra gli stati. Una accezione ancora più semplificata del concetto di ricerca nello spazio di stati è quella che tutti conosciamo, tipica dei navigatori satellitari, cioè è l'esempio che si deriva dell'Atlante stradale. Anche un Atlante stradale può essere visto come uno spazio degli stati dove ciascuno stato è rappresentato da una città, intendendo la città come un punto sulla cartina, quindi un luogo non ulteriormente scomponibile. Gli archi rappresentano le strade, probabilmente possiamo immaginare le strade a percorrenza più breve, che collegano le città fra di loro. Quindi in fondo un'Atlante stradale può essere visto come uno spazio degli stati. qui però abbiamo due differenze rispetto ai casi precedenti. La prima differenza è che come vedete gli archi sono etichettati. Qui l'etichetta rappresenta la distanza minima che separa due città, lungo immagino appunto la strada più breve in questo esempio tratto da una porzione dell'Atlante stradale della Romania. E questa è la prima differenza con i casi precedenti dove vediamo che gli archi non erano etichettati. Quindi questo significava che le mosse per passare da uno stato del mondo a un altro probabilmente avevano tutte immagino lo stesso costo. Qui invece le mosse del tratto di strada che separa due città. Un'altra differenza importante rispetto ai casi precedenti dell'Atlante stradale è che, come dicevo prima, la rappresentazione dello stato del mondo è una rappresentazione atomica. Non la si può scomporre. È data esattamente dalla stringa che rappresenta il nome della città. Abbiamo Arad, abbiamo Bucharest, eccetera. Mentre invece nei casi precedenti, ripeto, la descrizione del mondo non era una stringa o perlomeno non era atomica, ma rappresentava una posizione relativa fra loro di alcuni oggetti. Gli oggetti avevano una descrizione atomica, per esempio 1, 3, 8, 2, 4, oppure nell'esempio precedente A, B e C. Ma lo stato del mondo era rappresentato dalla posizione relativa. Quindi, per esempio, se l'avessimo voluto rappresentare dei prologhi, avremmo di utilizzare qualcosa, cioè una struttura, un funtore, con tre argomenti, in questo caso qui, o probabilmente con nove argomenti, in questo caso qua, che rappresentavano le posizioni appunto degli elementi che avrebbero rappresentato. Ovviamente lo scopo di tutta la ricerca dello spazio di Stati è quello di, partendo da un certo stato iniziale, arrivare a un certo stato iniziale e innanzitutto vedere se è possibile arrivarci, ma possibilmente arrivarci compiendo la minor fatica. Quindi adesso i concetti basi che vedremo li applicheremo all'Atlante stradale qui della Romania, ma ovviamente saranno generalizzabili anche agli altri casi. Quindi, sostanzialmente, farlo significa trovare percorsi all'interno dei grafi. Ricordiamo quindi cos'è un grafo diretto. Un grafo è diretto ad un insieme di nodi, eventualmente potrebbe, attenzione, anche essere infinito. Questo è un bel concetto su cui ritorneremo. È un insieme di archi diretti che vanno da un nodo all'altro. Questi archi diretti si intendono etichettati. Nei primi due esempi precedenti non erano etichettati perché l'etichetta sarebbe stata invariabilmente la stessa, ma in generale si intendono, in uno spazio di Stati, gli archi etichettati. E poi abbiamo una funzione che ci fa corrispondere da un certo nodo, a seconda dell'arco che esce da quel nodo, un altro nodo, che sarebbe il nodo a cui quell'arco incide. Un grafo si dice connesso se ogni coppia di nodi è collegata da un cammino. Quello che abbiamo qui in figura non è un grafo connesso. Se è un albero, l'albero è un particolare grafo. È un grafo, innanzitutto, diretto, sì, è connesso, ma il concetto primo più importante è che non ha cicli. Il secondo, il concetto importante è che è collegato anche al primo, che un nodo non può avere più di un arco entrante, quindi un nodo ha un solo genitore, non può avere più di un genitore. Il maggior numero di figli posseduti da un nodo si chiama fattore di diramazione, o branching factor in inglese. Quindi, sul concetto di grafo diretto, perché lo spazio degli stati è appunto un grafo diretto e digrettato, in cui però abbiamo uno stato, uno in particolare, che vi è detto stato iniziale. Poi abbiamo una funzione appunto che rappresenta la mossa o le mosse che possono essere eseguibili in un certo stato, cioè sono gli archi che escono da un certo stato. E poi abbiamo una funzione che per ogni copia, stato del mondo e arco uscente da quel mondo, ci restituisce il nodo in cui quell'arco ci porta, a partire da quel nodo. Quindi cos'è il test obiettivo? Semplicemente è un test che applicato a uno stato del mondo ce lo identifica come un possibile nodo obiettivo, cioè un nodo goal. Non è detto che mentre c'è sempre solo un nodo iniziale, nella ricerca nello spazio degli stati, i nodi obiettivi possono essere anche più di uno. Un problema quindi sostanzialmente formalizzabile come una tripla, in cui abbiamo uno spazio degli stati, una definizione di un particolare stato iniziale e un test obiettivo che va a individuare quindi i goal, gli stati obiettivi. Risolvere un problema significa trovare un percorso da uno stato iniziale ad uno stato obiettivo. Uno perché, non solo perché possono essere tanti, più di uno gli stati obiettivi, ma anche perché da un certo stato iniziale ad un singolo nodo possono essere più i percorsi che si possono seguire. Quindi bisogna trovare i percorsi. questo sarà un concetto molto generico, molto pervasivo all'interno dell'intelligenza artificiale. Generare sequenze di azioni, di mosse, per raggiungere uno stato obiettivo a partire da un certo stato iniziale. Quelli che vedremo come concetti più importanti saranno l'espansione, poi vedremo cosa significa. Si parte da uno stato iniziale, applicando gli operatori, cioè le mosse, si generano nuovi stati. Dovremmo capire cos'è una strategia di ricerca e quali sono ovviamente le proprietà, vedremo, ma soprattutto cosa consiste una strategia di ricerca. Vedremo cos'è l'albero di ricerca e cercheremo di capire quali sono sia i le varie strategie, sia quali sono ovviamente le strategie più importanti. Vedremo ne sono cinque di strategie di ricerca nello spazio dei stati senza conoscenza oristica. Dicevo prima che i campi di applicazione sono... non saprei neanche dire quanti, forse l'intelligenza artificiale quasi si può dire che è basata su questo concetto di ricerca nello spazio degli stati. Vedete che le applicazioni possono essere veramente tantissime. In particolare già noi abbiamo avuto modo di contattare il problema di ricerca nello spazio dei stati nel Teore Improving, perché quando abbiamo studiato ad esempio la risoluzione e abbiamo proprio toccato con mano cosa significa fare ricerca nello spazio dei stati, avere una strategia, in quel caso lì la strategia era la strategia Depth First, quella che abbiamo visto nella SLD Resolution, ma qui quei concetti lì ovviamente li andiamo a generalizzare. Allora, cosa significa fare ricerca nello spazio dei stati? Il punto più semplice che possiamo avere è quello dell'Atlante stradale, dove la descrizione degli stati del mondo è affidata a semplici stringhe, quindi abbiamo una descrizione del mondo cosiddetta atomica da distinguere da quelle fattorizzate dove la descrizione del stato del mondo, come nel caso che abbiamo visto prima, può essere definita da un vettore che mi rappresenta le posizioni di vari oggetti, o a concetti ancora più complessi in cui lo stato del mondo possono essere rappresentati addirittura da teorie proposizionali, teorie del primo ordine che decidono stati del mondo, in questo caso parliamo di rappresentazione del mondo strutturata. Quindi ovviamente queste sono la complessità crescente. La complessità più bassa di tutte è quella in cui la descrizione del mondo è fatta in maniera atomica e quindi nel caso delle città, le città sono un punto nello spazio, non ci si può entrare dentro, i punti si chiamano Arad, Oradea, Azerid e così via. Dunque, in pratica fare ricerca nel spazio dei stati significa generare alberi. Alberi perché? A partire dal grafo diretto che rappresenta lo spazio degli stati, fare ricerca al suo interno significa generare un albero, un albero in cui la radice è il nodo e corrisponde alla località di partenza. Nel nostro esempio della Romania, Arad, la città di Arad. Dopodiché cosa succede? che si va, come qui è cominciato, si comincia a vedere in questa figura, noi si va ad applicare la funzione di trasformazione dello Stato allo Stato di partenza e nel caso del tante stradale la funzione di trasformazione è semplicemente andare a vedere in quale città sono direttamente collegate alla città in cui ci troviamo e quindi si ipotizza di poterci andare. Chiaramente stiamo facendo una pianificazione stradale, non ci stiamo andando, però si ipotizza di andarci. Quindi questa ipotesi, vado in quella città, significa generare, a partire dal nodo in cui ci troviamo, cioè dal nodo di partenza, generare altri nodi. I stati connessi a quello iniziale sono i candidati per la mossa successiva. Nel caso di Arad possiamo andare in Zed, in Silvio, in Timisoara, in questo semplice attrante stradale. E quindi vediamo come si comincia a generare l'albero, che è altra cosa rispetto al grafo dello spazio degli stati, però ovviamente è legato perché appunto l'albero rappresenta una possibile ricerca in quello spazio degli stati. Espandere un nodo significa applicare la funzione successore allo stato corrente, come ho detto poco fa. Quindi si genera un nuovo insieme di stati. Nell'esempio che abbiamo davanti, l'insieme costituito dai nodi Sibiu, Timisoara e Zerind, questi nodi che vengono generati fanno parte della cosiddetta frontiera dell'espansione. Che cos'è la frontiera dell'espansione? Sono i nodi che sono stati appena generati, che quindi vanno ad aggiungersi alla frontiera, se ce n'erano altri sulla frontiera, dell'albero in espansione. Sono delle foglie al momento di questo albero, ma magari da queste foglie poi potranno generarsi ulteriori rami. Però al momento l'albero è in espansione, per cui sono delle foglie, e questi nodi che sono stati appena generati vanno a rimpiazzare nella frontiera il nodo da cui sono stati generati, che era uno dei nodi della frontiera. Espandendo Sibiu, in questo esempio, ad esempio, il nodo scomparirà dalla frontiera, come prima era scomparso Arad. La prima frontiera era Arad, la radice. La seconda frontiera, Arad scompare, è così da Zerind, Sibiu e Timisoara. Se andiamo adesso a espandere Sibiu, che cosa succede? Che da Sibiu possiamo andare in Oradea, in Arad, in Reminico-Vilcea e in Fagalas. Questi quattro nodi rimpiazzerebbero Sibiu che va via dalla frontiera e sarebbero i nuovi nodi da mettere nella frontiera. Ma abbiamo che il nodo Arad era il nodo da cui provenivamo, per cui già cominciamo a porci un problema, che ovviamente affronteremo. Cosa fare se andiamo in un nodo in cui eravamo già stati, che aveva già fatto parte precedentemente della frontiera? Beh, ovviamente, forse sarà il caso di evitare di metterlo nella frontiera, perché altrimenti genererebbero un loop. Quindi, che cos'è la frontiera? La frontiera è l'insieme dei nodi generati, ma non ancora espansi. Qui, ad esempio, vediamo che espandendo Arad abbiamo generato Sibiu, Timishuara e Zerind, espandendo Sibiu generiamo Arad, Fagalas, Oradea, Reminico-Vilcea, Timishuara e Zerind. Vedete che per il momento abbiamo supposto di non fare il controllo di cicli e quindi abbiamo messo anche Arad nella frontiera. Arad quindi torna a essere nella frontiera, perché prima era stato eliminato quando era stato espanso, così come adesso è stato eliminato Sibiu. Però non è detto che espandendo uno di questi nodi, anzi sicuramente, Sibiu potrà tornare a far parte della frontiera. Al momento non ne fa parte. Cos'è la foglia? La foglia è appunto un nodo che appartiene alla frontiera dell'albero in espansione. Queste in verde qui sono ancora da espandere. Quindi quello che abbiamo sostanzialmente nella ricerca in spazio di stati è che noi abbiamo degli alberi che crescono. Cioè ad ogni espansione di un nodo abbiamo una crescita dell'albero. Quindi i nodi vengono creati mediante una funzione successore che rappresenta appunto l'arco in cui andiamo, il nodo in cui possiamo andare a partire da un certo nodo e quindi è un possibile arco. Quello che credo che sia importante notare a questo momento è che mentre nel caso dell'Atlante stradale, così anche come nel caso del gioco che abbiamo qui davanti, in teoria noi potremmo pretabellare tutti gli archi, sarebbe un po' difficile farlo nel caso del gioco, non è difficile, anzi si fa, tutti i navigatori satellitari l'hanno fatto, lo fanno, tabellare tutte le città e tutti gli archi, cioè le strade che collegano le città fra di loro. In altri casi potremmo non poterlo fare perché il numero degli stati che comparte dello spazio degli stati è infinito. Ma questo concetto, cioè il concetto dell'espansione dell'albero, quindi della visita all'interno dello spazio degli stati, si conserva lo stesso e potrebbe comunque portare alla soluzione, anche nel caso di spazi degli stati infiniti, in cui non potremmo pretabellare tutti gli archi perché i nodi potrebbero essere in numero infinito, a patto però che sia possibile formalizzare in maniera non ambigua la funzione successore, cioè i successori, i nodi possono essere infiniti, ma se io posso, dato un nodo, sapere quali sono i finiti, il numero finito di successori di quel nodo, beh, io posso fare ricerca nello spazio degli stati anche se il numero degli stati è infinito. Quindi noi possiamo fare ricerca nello spazio degli stati anche se gli spazi sono composti da un numero infinito di stati, a patto che la funzione successore sia effettivamente calcolabile. torniamo quindi all'Atlante stradale e vediamo quindi che un conto è lo spazio degli stati, questo dovrebbe essere chiaro, un conto è l'albero di ricerca. Quindi adesso cerchiamo di capire cosa caratterizza l'albero di ricerca, in particolare quali sono i parametri che contraddistinguono un nodo dell'albero nell'albero di ricerca, per poterlo poi dopo rappresentare all'interno di un algoritmo. I nodi dell'albero sostanzialmente sono caratterizzati da cinque parametri, ovviamente la descrizione dello stato che lui rappresenta, cioè la rappresenzione del nodo stesso. Sarebbe forse il caso di tenere l'indicazione del nodo genitore all'interno dell'algoritmo che sviluppa all'albero e magari anche dell'azione che è stata fatta per generarlo a partire dal nodo genitore. Forse sarebbe comodo negli algoritmi tenere anche la formazione sulla profondità della sua collocazione nell'albero e questo è un concetto semplice. Si tratta sostanzialmente di capire la lunghezza del percorso dalla radice fino al nodo stesso. E poi il costo. Qualora gli archi fossero etichettati tutti con la stessa etichetta e quindi non ci fosse differenza fra il peso degli archi, allora la profondità coincide con il costo, ma quando invece c'è differenza, come per esempio nel caso dell'Atalanta stradale, forse un'altra informazione utile, anzi senz'altro, se dobbiamo trovare i percorsi più brevi, è tenere l'informazione per ogni nodo generato qual è stato il costo, qual è il costo di quel nodo, cioè qual è il costo del cammino che abbiamo trovato fino a quel momento a partire dal nodo iniziale fino al nodo in questione. Quindi sostanzialmente possiamo dire che nella ricerca spazio di stati gli istruttori dati sono due liste, una lista, importanti sono due, due liste, una lista contiene i nodi che stanno sulla frontiera e che si espande dell'albero che cresce e una lista, questo appunto sarà importante per evitare eventualmente di percorrere cicli, una lista che contenga i nodi che sono già stati espansi precedentemente. Ad esempio qui abbiamo un albero di ricerca che è stato già espanso fino a un certo punto, abbiamo che alcuni nodi sono già stati espansi e quindi sono chiusi e se fossero rigenerati di nuovo non li rimetteremmo nella frontiera e poi abbiamo una frontiera e poi abbiamo dei nodi che ancora dobbiamo esplorare. Quindi l'algoritmo generale per generare alberi di ricerca è questo qui, una generazione di alberi, True Search, ritornerà una soluzione o un fallimento e fa così, si inizializza la frontiera con lo stato iniziale del problema, Arad, nell'esempio di prima, dopodiché facciamo un ciclo che se la frontiera è vuota allora restituisce fallimento, cioè in pratica se abbiamo esplorato tutto l'esplorabile e non abbiamo trovato la città dovevamo andare, nel caso del Tantestradale, che è l'esempio che faremo in Bucharest, non ci sono più nodi da espandere perché li abbiamo espansi tutti e si restituisce fallimento, quindi nel caso Tantestradale vuol dire che non è possibile da quella città arrivare in quell'altra, altrimenti se questo non è vero, quindi non si esce dalla funzione, a secondo della strategia che poi vedremo, scegliere un nodo da rimuovere dalla frontiera, bisogna scegliere uno dei nodi da espandere, di quelli che si trovano sulla frontiera. Scelto questo nodo si va a vedere se per caso è il testo obiettivo, quindi non si va a vedere se abbiamo raggiunto il testo obiettivo quando lo generiamo, il nodo a partire dal genitore, viene generato, viene messo nella frontiera, poi quando verrà selezionato all'interno della frontiera per essere assolto, espanso, prima di espandolo andremo a vedere se verifica il testo obiettivo, cioè se è nodo goal. Se questo è il caso, allora bisognerà restituire il percorso dal nodo iniziale fino a lui come soluzione, altrimenti se non è il nodo da espandere, lo si espande, si prende i suoi successori e li si aggiungono alla frontiera. E qui non abbiamo considerato il caso di rimuovere il nodo della frontiera. La strategia di sviluppo dell'albero coincide con il definire l'ordine con cui saranno esaminati per essere espansi i nodi che si trovano nella frontiera dell'albero. sarà più chiaro nella pratica. Il problema che abbiamo accennato prima è il problema dei cicli infiniti. Come si fa ad evitare di rispandere lo stesso nodo? E sostanzialmente si fa in questa maniera. Se abbiamo la possibilità di poter tornare su uno stesso nodo e quindi stiamo facendo una ricerca su un grafo, che è il concetto più generale, ed è questo quello che vogliamo prendere in considerazione, dobbiamo appunto portarci dietro la lista dei nodi visitati, che all'inizio la metteremo, la setteremo a vuoto. All'inizio non abbiamo visitato niente. Dopodiché sarà tutto come prima, meno che quando andiamo ad espandere il nodo, supposto che quindi il nodo che stiamo per espandere, che abbiamo prelevato dalla frontiera, non sia un nodo obiettivo, prima di espanderlo lo aggiungiamo alla lista dei nodi visitati. Cioè diciamo che questo nodo lo stiamo per espandere, quindi è visitato. Lo espandiamo, aggiungiamo alla frontiera i successori del nodo, meno quelli che già appartengono alla lista dei visitati. Prima non lo potevamo fare, questo passaggio, perché non avevamo la struttura dati lista dei visitati. Se ce l'abbiamo, la utilizziamo e così facendo evitiamo i cicli. Adesso andiamo a concludere l'unità didattica, parlando dei criteri che utilizzeremo come criteri di benchmark per valutare le strategie. Sostanzialmente saranno 4. Andremo a vedere innanzitutto se la strategia di ricerca è completa. Completa vuol dire che se esiste un percorso che va verso la soluzione, questo percorso lo si trova sempre. Magari ci si mette una quantità di tempo epocale, ma ci si riesce. Questo è un concetto che abbiamo già visto quando abbiamo parlato della completezza delle strategie di risoluzione. Ottimalità, cosa significa? Significa che la strategia quando trova una soluzione, trova la soluzione, se ce ne sono più di una, cioè il percorso per andare su quel gol a partita sanitario, la più breve, dove per breve, forse più generale sarebbe da dire con costo minore. Questo vuol dire l'ottimalità, che è un criterio di razionalità, che chiaramente l'intelligenza artificiale fa suo. E poi abbiamo i due criteri forse più importanti, perché in qualche maniera la differenza tra una strategia effettivamente utilizzabile e una no, sono le due complessità, nel tempo e nello spazio. Cioè quanto tempo ci vuole per trovare la soluzione in generale, o a volte si fa il concetto del caso peggiore, oppure quanta memoria mi richiede trovare il percorso, semmai ottimale o non ottimale. A seconda, questa è una combinazione di criteri ovviamente. Le due complessità nel tempo e nello spazio ovviamente non coincidono. Bene, allora adesso per questa unità didattica ci fermiamo qui, inizieremo la prossima parlando dell'euristica e poi andremo a vedere quali sono le strategie che prenderemo in considerazione, le cinque strategie che prenderemo in considerazione in questo modulo didattico.